buongiorno cnweb tv oggi vogliamo parlare di criminalità in particolare di criminalità degli anni 70 vogliamo parlare di mafia e vogliamo parlare di come si evolve questa criminalità e arriva alla visione della criminalità odierna tutti conosciamo dalle stragi di palermo allo scandalo di roma capitale ma non solo vedremo anche gli anni settanta da un punto di vista di evoluzione della visione popolare perché appunto sono gli anni in cui la televisione prende il sopravvento sul cinema e diventa un medium di risolvimento popolare e affronteremo tutto questo con nostro ospite di stasera che il professor francesco sospino direttamente dalla facoltà elettro di filosofia del corso di laurea dams dell'università di roma 3 partiamo appunto dal primo libro della visione criminale dai camaleonti in questo libro appunto abbiamo una visione di quella criminalità negli anni sessanta settanta che ci serve per farci capire come si è sviluppata come si arriva all'epoca moderna e quindi andiamo a domandare quali sono le basi di questo filo rosso che è tracciato nel libro come si parte dalla criminalità anni sessanta e si arriva a roma capitale allora il libro innanzitutto è un romanzo romanzo che diciamo attraverso un arco storico molto ampio appunto circa dieci anni tra la fine degli anni sessanta e la fine degli anni settanta perché sentivo come dire la necessità di raccontare un pezzo di storia che mancava quel pezzo di storia diciamo che precede la formazione della banda della magliana che poi è quello che è stato ampiamente raccontato da romanzo e poi dal film nella serie tv e perché secondo me andava raccontato un un passaggio fondamentale che è quello da diciamo la criminalità che ancora legata al territorio al quartiere che controlla appunto il quartiere come 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 confine molto molto limitato e quella che poi si affermerà appunto con la con la banda della magliana che invece inizia a controllare un territorio molto più vasto molto più ampio e quel passaggio secondo me avviene proprio tra la fine degli anni sessanta all'inizio degli anni settanta in particolare il romanzo racconta c'è un evento centrale che adesso non rivelo per chi ha voglia di leggere un evento centrale che secondo me significativo che influisce proprio sulla formazione dell'immaginario l'immaginario che è quello che in qualche modo si inizia a modificare proprio in quegli anni e che poi in qualche modo noi ereditiamo noi diciamo che siamo arrivati dopo e ereditiamo ma che è fortemente fortemente caratterizzato da quel cambiamento che avviene tra insomma tra la fine degli anni sessanta e l'inizio degli anni settanta abbiamo detto in quegli anni la televisione sta prendendo il sopravvento abbiamo parlato appunto di un evento personale di crescita in qualche modo anche diciamo il paese cresce cambia visione attraverso quello che gli passa la televisione quindi non più il cinema e in particolar modo nel libro precedente le origini di Gomorra lei ha voluto parlare di un natore dell'origine natore che è Salvatore Piscicelli che ha cominciato con l'esperimentalismo televisivo collegandoci anche un po' il discorso di prima sulla criminalità come si parte da il cinema di Piscicelli dai approcci come la canzone di Zesa fino ad arrivare al corpo dell'anima e si costruisce un rapporto di cinema e televisione che cita quella complessa macchina strutturale stilistica che oggi appunto la serie di Gomorra a cui si rimanda il titolo del libro assolutamente e allora come avete capito gli anni 70 è un terreno di studio io che ho affrontato sotto vari angolazioni sotto varie prospettive il libro precedente appunto alle origini di Gomorra era un saggio analizzava il cinema di Salvatore Piscicelli che per chi appunto non lo conosce è uno dei più importanti esordienti degli anni 70 in particolare i suoi film di esordio sono tra i titoli più importanti del cinema italiano degli anni 70 proprio in una fase cruciale in cui come giustamente ricordavi avviene un passaggio di il cosiddetto passaggio di testimone un passaggio fondamentale un passaggio fondamentale per la nostra cultura e dell'immaginario in cui il cinema lascia il testimone dal testimone alla televisione quel passaggio che è un passaggio cruciale viene interpretato da alcuni personaggi in maniera molto significativa penso ad esempio a Nanni Moretti penso ad esempio Giuseppe Bertolucci penso ad esempio a Gianni Amelio ma secondo me era estremamente significativo quello che che compie Salvatore Piscicelli con il suo cinema del diciamo degli esordi in qualche modo Piscicelli segna un passaggio anche culturale nella rappresentazione di Napoli infatti lei parla di cinema napoletano vero? Assolutamente secondo me ecco Piscicelli è da considerare come il vero e proprio padre di questa novel bag napoletana che poi ha avuto almeno altre due generazioni dopo di lui ma che è il primo a parlare di Napoli in un'altra maniera. Prima di congedarci vi ricordiamo per chi volesse seguire la presentazione ci sarà la presentazione del libro del professor Crispino Iga Maleonti a Roma Ostiense ovviamente. Sì è una libreria che è molto vicina a Roma 3 è una libreria le storie alle ore 18 di giovedì 16 aprile la prima presentazione del libro che è appena uscito e che spero insomma sia un motivo di interesse. Grazie. 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 Grazie.